Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura. L'emergenza sanitaria rallenta la campagna vaccinale, cresce la paura, sospesa la distribuzione dei vaccini AstraZeneca in tutta Italia dopo alcune morti sospette. Emergenza sanitaria e crisi economica. Ieri a Torre del Greco un tavolo tra le attività produttive e l'amministrazione comunale per individuare soluzioni per far fronte alla crisi. Spazio anche alla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 130 milioni di euro frutto di proventi illeciti nei guai. È finita un'azienda che operava in tutta Italia. In chiusura lo sport con la Turris che domani cercherà il riscatto contro il Catania. I corallini sono ancora a rischio. Zona play out. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Si torna a parlare ancora una volta di AstraZeneca, il vaccino contro il Covid-19 che ha destato nelle scorse settimane, non poche perplessità. Destinato a personale scolastico e forze dell'ordine, dalle prime dosi inoculate aveva registrato vari effetti collaterali, fino al decesso in Sicilia, di un militare che prima della dose vaccinale non aveva alcuna patologia pregressa, possibile causa di morte. I casi di persone con sintomi più o meno gravi hanno preso piede con il decesso di una docente campana che poi, successivamente all'autopsia, si è potuto dimostrare fosse causa di un infarto intestinale non riconducibile alla dose di AstraZeneca. Caso simile, quello che ha coinvolto il collaboratore scolastico di Afragola ha deceduto a seguito della prima dose di vaccino effettuata il 7 marzo. Anche qui, a seguito dell'autopsia, non si è riusciti a trovare nulla di significante che potesse evidenziare un collegamento tra la causa di morte e la dose del farmaco inoculata. I casi iniziano a moltiplicarsi. Si riesce a risalire ad un lotto che sarebbe causa dei maggiori effetti collaterali. Quest'ultimo verrà posto sotto sequestro e non più utilizzabile per le ASL. Si continua così la vaccinazione AstraZeneca, con la preoccupazione, però, che continua a salire in primis tra i cittadini già vaccinati e tra quelli che nel breve termine avrebbero dovuto effettuare la prima dose. Una preoccupazione che non colpisce solo il cittadino, ma finisce per cadere anche sulle aziende sanitarie e territoriali. Le ASL campane nel fine settimana sospendono le vaccinazioni mediante dosi della casa farmaceutica anglo-svedese, salvò poi ripristinare il tutto a seguito di una riunione d'urgenza che vedeva il farmaco di AstraZeneca come sicuro e non causa di gravi effetti collaterali. Cade però un fulmine a ciel sereno sull'intera penisola italiana, con l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che sospende in modo temporaneo la somministrazione di AstraZeneca in attesa di ulteriori informazioni sul farmaco. Un movimento drastico che getta ancora una volta l'Italia nella psicosi vaccini, proprio nel giorno in cui il paese supera i due milioni di vaccinati. Uno stop che se dovesse tramutarsi in definitivo potrebbe rallentare non di poco la campagna vaccinale italiana. Sono sempre di più i cittadini che ogni giorno disdicono la propria prenotazione vaccinale, schiavi di una paura ormai presente e quanto mai persistente nelle menti della popolazione, che era già stata vittima di un'opera di convincimento nelle prime settimane del 2021, proprio quando la campagna vaccinale stava lasciando gli operatori sanitari per cominciare il lungo e travagliato percorso della vaccinazione alla popolazione. L'Italia però non è sola a fare dietro front su AstraZeneca. Infatti le decisioni sono state analoghe anche in Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Slovenia. Proprio in queste ore la procura di Biella ha disposto il sequestro dell'otto ABV 5811, ora sotto analisi degli esperti. Una donna napoletana di 54 anni risulta essere in terapia intensiva all'ospedale del mare di Napoli. La donna non aveva patologie pregresse ed è ora in rianimazione in condizioni gravissime. Quest'ultima ha effettuato il vaccino la scorsa settimana. La dose, riconducibile all'otto ABV 5811 di AstraZeneca, in via sospensiva proprio in queste ore. Problemi anche per i vaccini Pfizer. A Salerno, un vigile urbano di 62 anni è deceduto a causa di un malore poche ore dopo l'inoculazione della dose. La procura di potenza ha disposto il sequestro della salma dell'uomo. Le scelte compiute e condivise oggi dai principali paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di EMA. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione, ha spiegato il Ministro della Salute Roberto Speranza. Tavolo d'incontro alla stecca fra attività produttive e vertici dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. La crisi economica continua a mettere a dura prova le attività produttive della città del Corallo, con interi settori in ginocchio. Basti pensare ai ristoratori chiusi per mesi dalle normative anti-covid oppure aperti a singhiozzo. Il tavolo d'incontro svoltosi ieri mattina negli uffici della stecca a Torre del Greco è servito proprio a rappresentare queste problematiche ai vertici comunali. All'incontro erano presenti l'assessore al bilancio, l'Ottaviano, e alle attività produttive, Polichetti. Questo incontro nasce da un invito da parte delle attività produttive di questo tavolo che già è sorto nell'anno scorso, dove c'erano dei punti da discutere. E quindi c'era stata inviata l'attenzione della nostra amministrazione dei punti fondamentali per far sì che le attività potessero ripartire oppure che il comune e l'amministrazione pubblica in qualche modo fosse vicino alla problematica. Si è discusso praticamente delle tasse, dei tributi e quindi abbiamo posto l'occasione per porre all'attenzione del tavolo stesso di una delibera che è passata in giunta in base a una richiesta che era pervenuta sul nostro tavolo. E la richiesta praticamente riguarda la riduzione della posta patrimoniale unica che rispetto alla tariffa stante è stata ridotta del 38% per tutti i commercianti, per tutte le attività produttive, ovviamente rispetto ai limiti imposti dal governo. Mentre questa amministrazione invita le nuove attività che si inserono sul territorio una tariffa esente, completamente esente. Quindi questo è uno dei primi punti. Poi ci sono altri punti che man mano in sinergia insieme vedremo di metterle, ci metteremo di nuovo a torno al tavolo per capire come poter ripartire noi come amministrazione e come possiamo essere vicino alle attività. Il nostro percorso è cominciato già lo scorso novembre attraverso una serie di interlocuzioni con l'amministrazione in cui cercavamo di rappresentare in maniera trasversale quelle che erano le difficoltà e le sofferenze che tutto il mondo delle attività produttive stava attraversando. Ricordo che il tavolo è composto da tutte le associazioni di categoria di Torre del Greco e cercavamo di studiare con il comune delle soluzioni che potessero essere di risposta immediata ad una sofferenza delle aziende, quindi aziende che stanno lottando per la sopravvivenza oltre che per un discorso di risposta alla pandemia e la costruzione di una visione per la costruzione quindi di strumenti che potessero ragionare in termini di sviluppo. Chiaramente oggi abbiamo avuto il primo confronto di carattere operativo ma già con un primo risultato perché l'assessore al bilancio aveva già recepito una serie di proposte che noi avevamo avanzato già a novembre che vanno uno nella direzione della risposta immediata e un altro nello sviluppo e quindi in particolare c'è una delibera che riguarda l'abbattimento delle tasse e che probabilmente l'assessore avrà già declinato in maniera più specifica ed un altro invece riguarda un abbattimento delle tasse nei confronti delle nuove imprese quindi cerchiamo sempre di guardare alla difficoltà immediata e allo sviluppo del territorio ma chiaramente ci siamo aggiornati col proposito di ragionare su un percorso condiviso a lungo termine. Nella mattinata odierna militari della Guardia di Finanza di Torino in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Napoli stanno dando esecuzione nell'ambito dell'operazione Ferramiù all'un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone appartenente ad un'associazione per delinquere di matrice internazionale finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici all'autoriciclaggio di proventi illeciti e all'emissione ed utilizzo di documenti testanti e operazioni inesistenti. In corso di svolgimento altresì perquisizione nei confronti di decine di soggetti e società nonché il sequestro preventivo è disposto su beni per oltre 130 milioni di euro tra cui disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati. Le indagini hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso a carattere transnazionale che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici acquistati in nero predisponendo poi la copertura documentale contabile volta a farli apparire come rottami illecitamente acquistati da imprese aventi sede all'estero che ne attestavano falsamente la regolarità secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea. Successivamente tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo. In armonia con la legislazione unionale infatti affinché i rottami metallici non siano qualificabili come rifiuto il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni incessione una dichiarazione di conformità al fine di consentire in ogni momento l'individuazione dell'origine del rottame e dunque la tracciabilità dello stesso. Laddove ci si trovi come nel caso di specie di fronte ad una cessione in nero la provenienza dei rottami resta ignota gli stessi non sono tracciabili e dunque devono sempre e comunque essere considerati rifiuti a caso del mancato rispetto delle richiamate disposizioni e quindi non sono commercializzabili come rottami metallici. Per ovviare a ciò gli indagati provvedevano a predisporre fittizie e dichiarazioni di conformità aggirando così le disposizioni di legge e celandola le aree origine del materiale. Inoltre per poter giustificare contabilmente i pagamenti destinati di fatto all'acquisto dei rifiuti in nero si adoperavano per ottenere false fatturazioni emesse da compiacenti società all'estero. Le investigazioni avviate nel 2018 hanno preso spunto dall'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta riguardante anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa avente sede nella Repubblica Slovacca ed un'azienda operante nel Torinese con sede secondaria in Campania per attività di commercio di materiale ferroso. Complessivamente, alla luce di quanto ricostruito nel corso delle indagini, dal 2018 sarebbero state movimentate circa 18.000 tonnellate di rifiuti metallici. I finanzieri hanno tracciato l'attività commerciale e finanziaria formalmente posta in essere dalle entità estere avvalendosi della cooperazione internazionale fornita da sette paesi Repubblica Slovacca, Ungheria, Turchia, Egitto, Pakistan, Cina e Malesia riscontrandone la fittizietà in quanto tali società sono risultate prive di una sede operativa e di beni immobili. Le odierne operazioni vedono complessivamente coinvolti circa un centinaio di militari appartenenti ad oltre 30 reparti del corpo. L'operazione Ferramiù conferma tangibilmente l'azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari che costituisce il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita prevenendo e contrastando le organizzazioni criminali che commettono gravissimi reati anche nel settore ambientale e realizzano forme di autoriciclaggio che inquinano il tessuto economico produttivo alterano la concorrenza del mercato e non da ultimo danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. Impegno infrasettimanale per la Turis che sarà impegnata domani alle ore 14 contro il Catania sfida che arriva a pochi giorni dalla disfatta nel derby per 4-1 in favore della Juve Stabia risultato che ha avvicinato pericolosamente la squadra di Mister Caneo alla zona play-out distante 4 punti con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti. Quella contro il Catania sarà anche la prima partita dall'inizio del ritiro imposto dalla società per ritrovare la condizione mentale giusta in vista della volata finale. Quella di andare subito in ritiro ha dichiarato il patron con Antonio a tal proposito è una mia decisione allo scopo di tenere ancora più coeso il gruppo in questo momento e ritrovare il risultato importante già nell'imminente turno infrasettimanale di campionato. Ovviamente il Catania non può essere dello stesso avviso e cercherà di allungare in classifica che vede la compagine siciliana a 43 punti in piena zona play-off la compagine siciliana inoltre reduce dalla sconfitta interna contro il Teramo elemento che porta il gruppo capitanato da Mister Raffaele alla caccia del riscatto. La squadra di Torre del Greco dovrà quindi mettercela tutta per cercare di mettersi in tasca a tre punti che darebbero un minimo di respiro servirà a sbagliare il meno possibile e di limitare la quantità di errori individuali vero punto debole di questa Turris lontana parente di quella vista nella prima parte di stagione. Vittoria che potrebbe dare la spinta giusta anche a Caneo che non è riuscito per adesso a trasmettere la scossa auspicata nel momento in cui è stato ingaggiato. La sensazione è che la squadra di Torre del Greco osserva la scintilla che possa riaccendere il fuoco dell'entusiasmo e la convinzione di poter dire la sua anche nel professionismo categoria che la Turris cercherà di mantenere ad ogni costo ma è chiaro che servirà tutt'altro spartito proprio a partire dalla sfida di domani per riuscire a raggiungere il traguardo salvezza. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti